cari fratelli e sorelle buona domenica di fronte a rivoluzione attuale del mondo diventano sempre più numerosi quelli che si pongono gli interrogativi più fondamentali qual è il significato del dolore del male della morte che continuano a sussistere ma rigrardo ogni progresso cosa ci sarà dopo questa vita ecco la chiesa crede che cristo per tutti morto e risorto da sempre all'uomo mediante il suo spirito luce e forza per rispondere alla sua artissima vocazione il vangelo di oggi presenta questa luce di fronte alla malattia e alle sofferenze umane gesù fa tre gesti molto significativi prende per mano prega e annuncia prima di tutto prende per mano la socia di pietro era malata e gesù fa il gesto più umano che esiste prendere per mano carissimi gesù ha condiviso il nostro dolore ha affrontato tutte le fatiche umane fino alla croce non è stato a guardare dall'alto non si è limitato a fare cadere dal cielo qualche pillora di saggezza ha messo la sua mano nella nostra poi si è ritirato a pregare quando era ancora buio per gesù la preghiera non è una via di fuga da chi soffre e immersione nella luce del padre è un rifornimento per essere pronto a tornare tra la gente che ha bisogno da questa preghiera prenderà la forza quando a lui stesso toccherà soffrire per affidare il suo spirito nelle mani del padre infine gesù compie la terza azione annunciare ai discepoli che lo avvertono tutti ti cercano lui dice che vuole andare altrove per predicare concludendo per questo io sono venuto carissimi la parola di dio è conforto nel dolore perché è parola di vita eterna sentiamo tante parole di vita terrena sui giornali alla radio e alla televisione ma queste parole non accendono alcuna luce sulla sofferenza e sulla morte il vangelo senza cancellare la realtà umana del dolore rivela che la sofferenza non è la realtà ultima noi siamo fatti per il cielo siamo fatti per la vita eterna dove luto malattia e dolore non ci saranno più i tre gesti di gesù indicano lo stile dei cristiani di fronte al fratello che soffre condividere regalare un gesto di vicinanza anche quando le parole non sono possibili poi pregare affidando la persona sofferente a quel dio che conosce il patire alla fine annunciare dire una parola di vita che perfori il muro del dolore e della morte mantenendo accesa anche nella notte più buia la luce del vangelo una parola che lascia intendere quella definitiva risposta concessa agli uomini lungo il cammino della loro esistenza la risurrezione di cristo inizio e promessa della nostra risurrezione finale buona domenica a tutti grazie a tutti grazie a tutti